Eccolo qua, sono tutte pronti! All'esterno di Dreaming of You, poi Pavenic, in scia di Pavenic c'è Luna Lunatica, all'interno Pontatir, poi chiudono il drappello delle partecipanti, Tati Sprint e Cicquinquira all'interno. Cavalle che vanno adesso ad affrontare la curva, è sempre in vantaggio Complicated Tem, messa adesso sotto pressione da Dreaming of You, guarda e temporeggia Pavenic tra le due, Luna Lunatica è coperta dietro a Dreaming of You, all'interno c'è Pontatir, poi chiudono il gruppo, ancora Cicquinquira all'interno di Tati Sprint. Adesso le cavalle sono entrate in dirittura di arrivo, è ancora Complicated Tem, ben salda in vantaggio, deve parare l'affondo esterno di Pavenic, ancora più all'esterno c'è Dreaming of You, poi temporeggia, cerca lo spazio Tati Sprint, così come Luna Lunatica. Pontatir al suo interno, ancora più all'interno c'è Cicquinquira, siamo a 250 dal palo, Pavenic è passata in vantaggio nei confronti di Luna Lunatica, poi ancora più all'esterno cercano di progredire Cicquinquira e Pontatir, siamo a 150 dal palo, Luna Lunatica è sfilata all'interno di Pavenic ed è passata in vantaggio sul traguardo, Luna Lunatica, poi al secondo Pavenic, a terzo Cicquinquira. Grazie. Grazie.